Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una bellissima maglia, una edizione speciale per il Borussia Dortmund della stagione 22-23, in edizione FAN. Il club tedesco Borussia Dortmund e Puma hanno rilasciato una maglia in edizione speciale per l'attuale stagione della Bundesliga 22-23. La maglia speciale Puma Dortmund 22-23 è la seconda maglia nera del club negli ultimi tempi. Nel 2019-20 aveva rilasciato la maglia scura in edizione limitata, una delle preferite dei FAN. In termini di colori, la maglia speciale Dortmund 22-23 ha una base nera con locchi luccicanti monocromatici antracite, incluso allo stemma del club. Una sottile grafica tonale appare su tutto il kit, che rappresenta il carbone e l'acciaio. Il carattere del kit Blackout in edizione speciale Dortmund è antracite, completano un look straordinario. La maglia è stupenda, nella mia classifica prende 4 stelle, questo motivo devo dire molto bello e il fatto che i colori siano sempre sul nero danno un tocco elegante alla maglia, veramente inconfondibile. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso per una maglia fatta sicuramente benissimo, che vi lascerà senza parole. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché troverete anche un coupon da 5 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio la parte finale. Prima però mi raccomando lasciateci un grosso like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che questo è l'unico modo che avete per avere sempre recensioni nuove. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Ciao!